Ha fatto tappa a Manduria, alle cantine, produttori vini, il tour enogastronomico Road to Dubai, the Italian Tasty Way, ovvero sulla strada per Dubai, il gusto all'italiana. E' la spedizione compiuta a bordo di tre camper, provvisti di ogni comfort, da una brigata, di chef, giornalisti, distributori di prodotti alimentari, nonché clienti di ristoranti di Dubai. La metropoli degli Emirati Arabi Uniti. Il tour è iniziato qualche giorno fa da Milano Expo e nel suo itinerario da nord a sud ha toccato già prestigiosi santuari del mangiare e bere bene, ma ne esplorerà anche altri meno conosciuti. L'occasione è ghiotta per far conoscere i numerosi prodotti del paniere che offre il territorio. Oltre al vino primitivo di Manduria Doche e di OCG di produzione, sono state degustate altre eccellenze gastronomiche del territorio. Un pacchetto di sapori da far conoscere con lo scopo di internazionalizzare sempre più le nostre aziende e le nostre produzioni. Grazie alla vincente sinergia che la cantina ha attuato con altre realtà economiche e locali. Perché uniti si vince. Le nostre produzioni sulla strada di Dubai. Speriamo, è quello che ci auguriamo. Questa giornata abbiamo ospitato qui in Cantina Consorzio Produttori Vini questo evento, strada per Dubai, il gusto italiano, all'italiana. Quello che l'iniziativa vuole è far conoscere questi prodotti sul nostro territorio, tutti i prodotti che possono tranquillamente raggiungere altri paesi, altri palati. Noi con il vino, poi appunto altri produttori, il miele, i formaggi, il capocollo di Martina Franca, prodotti da forno, il tonno, l'olio. Perché vogliamo aprire le frontiere ai nostri prodotti, farli barcare quello pugliese, quello nazionale. E questa è una delle tante opportunità. Speriamo che questo possa realizzarsi. È una bella occasione anche per questi chef per poter conoscere il territorio, perché hanno in mattinata anche visitato il parco archeologico, il centro storico. E continueranno nel pomeriggio con la zona marina. Uniamo sempre i prodotti di eccellenza con il loro territorio di provenienza. Il modo più completo e migliore per farli apprezzare, farli innamorare e speriamo farli esportare, o importare, insomma, nel loro caso. Guidata da Francesco Guarracino, executive chef del ristorante Bice Mare di Dubai, la comitiva sta ripercorrendo l'Italia su un'ideale rotta che conduce nella metropoli degli Emirati Arabi, dove dal 27 ottobre al 6 novembre prossimi si terrà l'Italian Cuisine World Summit, Il summit che gestisce l'organizzazione anche di Road to Dubai ed ha come protagonisti i migliori ristoranti italiani della città, che durante l'evento ospitano decine di cuochi stellati Michelin provenienti dall'Italia. Il tour farà soste per assaggiare la cucina di cuochi e ristoranti, che rappresentano il meglio della cucina italiana contemporanea, come Enrico Bartolini, De Vero Cavenago, Mauro Uliassi, Uliassi Senigaglia, Einch Beck, La Pergola, Cavalieri Hilton di Roma, Alfonso ed Ernesto Iaccarino, Don Alfonso, Sant'Agata sui due golfi, Rosanna Marziale di Le Colonne Caserta, Angelo Sabatelli della Sabatelli di Monopoli, Antonella Ricci di Forno a Ceglie Messapica, Vincenzo Candiano della Locanda Don Serafino di Ragusa e Pino Cuttaia di Lamadia di Licata. Tutti questi cuochi parteciperanno al summit di Dubai. Prima di tutto devo fare un grande ringraziamento alla città di Mandur, è stato bellissimo, l'accoglienza spettacolare. Quello che stiamo assaggiando è il motivo per il quale noi eravamo venuti qua, portare delle sensazioni che sono così profonde, poi dopo a Dubai. Io ho assaggiato i prodotti caseari del caseificio Stella eccezionali. Il miele è stato qualcosa che ci ha stupito tantissimo e sarà sicuramente poi dopo sulle nostre tavole, a Dubai sul nuovo menù di Bice Mare. Un'altra cosa che sicuramente proveremo ad importare, perché altrettanto straordinaria, è il capocollo di Martina Franca. Gli stessi vini, i taralli, i posti da forno sono delle sensazioni uniche, che soltanto qua si possono poi dopo ritrovare. Quindi sicuramente i vostri ristoranti li richiederanno? Allora, la nostra idea, il nostro tour è cominciato per delle opportunità. Dare delle opportunità a tutti, soprattutto a me stesso, di avere la possibilità di lavorare con dei prodotti veri, che a Dubai solitamente non arrivano così facilmente. Quindi l'idea di fare questo tour in un'Italia nascosta, l'Italia delle eccellenze, quella fatta delle persone reali di storie che sono dietro ai prodotti. Noi come cuochi non possiamo cucinare le pietre, non vengono bene. E' un ringraziamento ai produttori, ai pescatori, alle persone che creano il mangiare e ci danno poi dopo la possibilità di poterlo cucinare. La difficoltà che sta per noi in una città così grande come quella di Dubai è trovare invece dei prodotti che hanno realmente una storia, hanno realmente un'anima. Perciò l'idea di girare l'Italia e andare a vedere realtà come quella di Manduria per poi poterli avvicinare a Dubai. Corrisponde ai gusti di chi frequenta i vostri locali questo che avete degustato? Io credo che le cose buone piacciono a tutti quanti, a volte però bisogna saperli educare, bisogna farglielo capire e per questo noi che cosa abbiamo pensato? Oltre a portare giornalisti, cuochi, ci siamo portati un cliente, uno che solitamente va nei ristoranti a Dubai per fargli capire realmente la differenza fra un prodotto artigianale ed uno industriale. Poi dopo loro saranno liberi di scegliere, però sicuramente, secondo me, il buono piace a tutti. L'idea di fare tappa qui a Manduria per questo road to Dubai è venuta proprio da lei che è manduriano. Sono manduriano doc, ovviamente, praticamente io lavoro a Dubai ormai da due anni, sono il manager del Bice Mare, un ristorante che si trova al Sukkabahar, di fronte alle fontane e alla Burj Khalifa, il palazzo, il grattacielo più alto del mondo al momento. ancora imbattuto e niente, quindi abbiamo voluto ideare, anzi è un'idea iniziata dallo chef, quasi per gioco. Poi con la mia passione e il mio supporto abbiamo sviluppato questo progetto che si chiama Road to Dubai. L'intento è quello di, anziché portare il prodotto a Dubai, venire noi in tre camper. Su tre camper siamo partiti dall'Expo e quindi questa iniziativa parte dall'Expo proprio come ringraziamento anche al tema principale dell'alimentazione. Abbiamo scelto sei regioni, tra cui la Puglia, abbiamo percorso da Milano giù fino a Firenze, poi nelle Marche abbiamo fatto anche una piccola tappa a Roma, adesso Campania e poi siamo arrivati in Puglia. Puglia percorreremo ancora altri due giorni in Sicilia e poi da lì il tour finisce, è stato molto intenso, molto interessante. Noi andiamo ogni sera a visitare i nostri colleghi chef stellati e quindi la giornata la chiudiamo con questa cena a tema negli chef stellati. Abbiamo incontrato Hans Beck a Roma e stasera e tanti altri chef. Stasera incontreremo Sabatelli a Monopoli, signor Angelo Sabatelli, che ci delizierà sicuramente con la sua cucina stellata. Il primitivo di Manduria, sicuramente lo farete degustare a qualche sceico o qualcosa? Questo sì, perché stranamente il primitivo di Manduria è famoso in tutto il mondo ma non in quella parte. Voi perché la religione, ma voi perché ancora non abbiamo i canali giusti per esportare questo vino, però ce la stiamo mettendo tutta e sicuramente anche il nostro primitivo arriverà anche a degustare i loro palati e quindi conquisteremo, anche se loro stanno conquistando noi, noi conquisteremo loro almeno con il vino.